Il 2 febbraio nell'Open Day in programma all'Istituto Tecnico per Geometri del Campus Cittadino verrà illustrato il corso di laurea triennale in costruzioni e gestione del territorio attivato in Valtellina lo scorso ottobre con 9 iscritti per volontà del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio forte dei suoi 663 associati. Un'occasione da non perdere rivolta a giovani e alle loro famiglie per conoscere meglio il percorso formativo rivolto ai nostri ragazzi che non dovranno più stare lontani da casa per conseguire la laurea triennale. Ho un orgoglio da parte nostra di aver portato l'università in provincia e a servizio dei nostri cittadini in modo tale che senza andare a Lecco o a Milano a seguire un corso di laurea possono tranquillamente farlo da Sondrio attraverso le nuove tecnologie di rete streaming con le università direttamente con loro. Tant'è vero che il 2 febbraio faremo questa giornata, questo Open Day proprio per far vedere come si sviluppa questo rapporto con le università. Vedremo delle lezioni. Una buona opportunità per qualificare meglio gli aspiranti geometri in linea elettiva i diplomati nell'indirizzo costituzionalmente territorio potenzialmente anche gli interessati diplomati con un diploma quinquennale. Si avvertiva la necessità di un corso di laurea di questo tipo? Ma è richiesto dal quadro europeo, quindi dal 2020 per esercitare professioni che prevedono l'iscrizione di un albo serve un titolo di livello quinto o sesto questo è un titolo di sesto livello, quindi una triennale, nello specifico una triennale professionalizzante. Un percorso di studi in grado di formare professionisti pronti ad operare in una molteplicità di settori. Il corso è partito a ottobre e ci sono questi nuovi iscritti, c'è molto entusiasmo tra gli iscritti ma anche entusiasmo tra i docenti e tra i ragazzi dell'istituto. È una valorizzazione di quello che può essere proprio la scuola. Al termine del conseguimento della laurea triennale quale tipo di professione si può esercitare nel dettaglio? Allora tutto l'ambito professionale del geometra, si va ovviamente dall'attività topografiche all'edilizia, da materie di tematiche ambientali ma come anche tematiche legate a perizie per conto del tribunale piuttosto che perizie, valutazione di immobili e tante altre perché la polivalenza del geometra è ben nota a tutti.